Io alzo le mani, ragazzi io alzo le mani, seconda partita consecutiva nel giro di un paio d'ore dove abbiamo visto lo spettacolo puro, due squadre che non avevano paura di affrontarsi l'un l'altra e che se le sono date di santa ragione, con capovolgimenti di fronte anche dal punto di vista psicologico all'interno della stessa partita e sono qui per analizzare proprio questo, per commentarla nel dettaglio. Parliamo di Lazio-Napoli e vi saluto immediatamente se non mi scordo. Perché parlavo all'inizio del video di capovolgimenti di fronte anche dal punto di vista psicologico? Ce l'ho suggerito la partita stessa, perché la Lazio è partita 100 volte meglio del Napoli dopo pochissimi minuti, ha afficchiato l'arbitro, la Lazio è già stata in vantaggio 1-0 e in realtà è stato bravo Zaccagni. Non era assolutamente un gol facile, non so se ve ne siete resi conto, non solo per l'esecuzione, per come si è spostato la palla, per come ha ricevuto la palla da Felipe Anderson. Mi devo levare questo vizio di ragazzi ogni 5 secondi, contateli perché ogni volta io ragazzi, perché mi rivolgo a voi, però ogni volta diventa fastidioso per me stesso. 1-0 per la Lazio, vi dico la verità, no ragazzi, l'ho pensato, se la Lazio gioca così, stavo per rivedere quello che avevo visto fare alla Lazio contro l'Inter, no? Se la indirizzi immediatamente, dal punto di vista psicologico, gli avversari possono soffrire e la Lazio in casa questo ci dimostra, no? E invece devo dire, guardando poi pure i passaggi a vuoto del Napoli con l'Ecce, invece no, e invece sono stato smentito ulteriormente. Ci ha messo un po' Spalletti a prendere misure a questa Lazio, che probabilmente l'ha preparata meglio tatticamente, ma Spalletti è stato più bravo ad aggiustare in corso d'opera. Non parlo solo dei cambi, eh, parlo soprattutto proprio d'atteggiamento tattico. Credo che tanto ci sia dell'allenatore, del Napoli, in questa partita e in questa rimonta, in realtà, eh. Piano piano, in punta dei piedi, sì, per carità, quando c'hai un fenomeno là davanti, del calibro di Quarashkega, Quarashkega, ma non riesco mai a nominare tanto, ognuno lo dice a modo suo, le cose sicuramente te si fanno più facili. E lo dimostra nel momento in cui, non so se avete visto quell'azione, recuperatevela, se non avete visto la partita, guardatevi gli highlights, fa quella Veronica Pazzesca, non mi ricordo su chi, se gira e fa partire, ragazzi, un destro talmente potente, che qua la palla, il portiere, prove della non ci sarebbe mai arrivato, e la palla si stampa sul palo. Poco dopo il palo, ma c'era già sta sensazione, il Napoli ha svoltato la partita in un attimo dal punto di vista psicologico, è bastato un guizzo per dare consapevolezza mentale a questo Napoli. Visto che tante volte abbiamo parlato di Napoli che, storicamente, negli ultimi periodi, no, c'ha dei passaggi a vuoto dal punto di vista mentale, queste sono cose che secondo me vanno sottolineate, perché i meriti ce stanno anche quando la squadra, che è in svantaggio, riesce, capito, a prendere il sopravvento dal punto di vista psicologico in casa della Lazio, perché in conto è che giochi a Maradona, in conto è che giochi da loro all'Olimpico, è ok. E... Ho detto palo, Guarashkaja, ma che ho detto che ha segnato? No, Kim, ragazzi, sono rincoglionito, non mi ricordo che ho detto, vabbè, comunque, subito dopo, Kim butta la palla in rete, minuto dopo, butta la palla in rete dell'1-1. Angolo di Zielinski, e, regà, lo stacco è perfetto, una piccola analisi su Kim, la devo fare per forza di cose, e sta palla che prende il palo, prove della smanaccia fuori, arbitro che ha l'orologio che gli suona, gli vibra, gli fa, non so quello che gli fa, comunque, gol, ma hanno fatto rivedere la colla in tecnologia, regà, era gollo di tanto così, veramente, non so scherzare, era gollo di tanto così, comunque la palla era tutta, era tutta dentro, e su Kim, ragazzi, come ha detto pure Spalletti, in sarà Koulibaly, ma, mi sembra che fino a ora, insomma, questa è arrivata, ha fatto 4, 5 partite, ha fatto 2 gol, ha fatto 2 gol a livello difensivo, non è che è stato poi così male, cioè, poi io, vabbè, ho un debole per i coreani, lo sapete, mi piace il K-pop, i coreani, i drama e via dicendo, cioè, proprio, mi sono innamorato, però, calcisticamente parlando, e non pensate a male, di questo calciatore, perché è un leader, è uno veramente che ci sa mettere il fisico, ci sa mettere la quantità, ci sa mettere la vena realizzativa, ci mette praticamente di tutto, prima che possa essere chiamato un degno ereto di pulipaline, deve passare di acqua sotto i ponti, ne deve dimostrare delle cose, pensate che bastano queste due cose che ha fatto, no, però, sicuramente è sulla buona strada, sicuramente il Napoli, con le operazioni di mercato che ha fatto, insomma, ha fatto capire che fino a ora non è che sta a sbagliare poi così tanto, poi le somme si tirano a fine stagione, ma se i presupposti sono questi, capite? Ecco, dal momento dell'1-1, scontro, speriamo che non si è fatto niente, lo sanno, e via dicendo, 200 capocciate, e via dicendo, speriamo bene, regà, qua ve dico che Spalletti, dal punto di vista da quando ha parlato con i ragazzi negli spogliatoi, gli ha dato delle direttive, perché quando sono rientrato in campo, non credo che la Lazio così improvvisamente è svenuta, no, regà, gli hanno umbrigliato la partita, e il Napoli ha cominciato a creare una molide occasioni incredibili, e devo dire che un po' la sfortuna, il Palo de Osimena, un po' Provedel, io ero già pronto, fosse finita 2-2, a far titolo del video, Diovede Provedel, Provedel, mori, vendete questa battuta, mi raccomando, perché in più di un'occasione è stato veramente incredibile, e se parlava tanto di Maximiano, giovane, di prospettiva, perché Mocchiariva, Fade, qua e dellà, prendono prove della pezzaccia per eccellenza, sapendo che possa titolare, perché quell'altro, vi ricordate che ha fatto la prima giornata dopo 6 minuti, una cazzata di quelle clamorose, ma ragazzi, ma prove dell'Emportiente, non che lo sto a scoprire oggi, però la dimensione della Lazio sicuramente è superiore rispetto alla precedente, no, mamma mia ragazzi miei, si è fatto a trovar pronto in 3 o 4 occasioni, e poi ragazzi, la differenza comunque la fa sempre Quaraschelia, la fa Quaraschelia perché poi il gol del 2 a 1 lo fa lui, ma soprattutto l'assista di Anguissa, sto Anguissa, piano piano, la dimensione di Anguissa la stanno capendo, i tifosi del Napoli la conoscono dall'inizio perché seguono attentamente le partite, chi non segue il Napoli, non si rende conto, ma Anguissa ragazzi, è un giocatore a tutto campo veramente clamoroso, dal punto di vista fisico, dal punto di vista tattico, anche lui dal punto di vista tecnico, perché c'ha anche lui la qualità, che permette di essere proprio, si inserisce perfettamente in un contesto che dà questa sostanza al Napoli, e il tiro che fa Quaraschelia ragazzi in occasione del gol è imparabile per Provedel, ma ci ha preso bene la mira, vi fa capire quanto è forte sto ragazzo, salvataggio dei Rachmani poi e via dicendo, volevo di un'altra cosa su Quaraschelia, ah che c'è avuto un'occasione prima Kozienischi che gli ha tirato una staffilata praticamente, la partita finisce col paccio da parte del Napoli ragazzi, col paccio veramente incredibile, e mo' parliamo un attimo di episodi da VAR, anzi non da VAR perché non è intervenuta, e pazzesco, pazzesco veramente ha tirato sta palla che è uscita fuori, a botta sicura al volo è uscita fuori da poco, Provedel non avrebbe potuto fare nulla, lo dico contro il mio interesse, perché io dico Roma, ma ragazzi per me quello era fallo da rigore, ve lo dico proprio onestamente perché non c'ho niente da nascondervi, anche se avessero pareggiato oggi onestamente, mi sarebbe andata bene comunque perché su due dinette concorrenti, se tu domani vinci prendono un punto e un punto, ma se tu vinci ne guadagni 2-2 a inizio è oro, diciamo che non mi dispiace che abbia vinto il Napoli, però noi domani dobbiamo fare il nostro, onestamente mi metto nei panni del qualsiasi tifoso, non guardo la maglietta della Lazio, mi metto nei panni del tifoso che sta a guardare sta partita, e che se vede un fallo ti dice perché non l'hanno richiamato al VAR, non può essere considerato chiaro ed evidente errore, perché l'arbitro ha visto tutto, è un episodio di campo, l'ha giudicato lui così, per lui quello non era calcio di rigore, e di conseguenza la VAR non ci può fare niente, non so se si sta a me spiegare, quindi sotto questi punti di vista, se no togli completare, come se non ci fosse, se no ci metti il robottino in mezzo al campo, e facciamo giudicare così sempre gli altri, io quel rigore l'avrei dato tutta la vita, sarebbe cambiata la partita, perché immobile sul discreto difficilmente sbaglia, poi magari l'avrebbe sbagliato, però sarebbero andati probabilmente sul 2-2, e lo sappiamo, le partite poi possono cambiare, vi dico che la vittoria del Napoli è meritata, ovviamente, perché nel secondo tempo ha fatto molto di più, la Lazio è sparita praticamente dal campo, è partita bene, ma poi è successo quel che è successo, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, sociali e descrizioni, e contenuti consigliati, buona serata!